Saremo molto brevi, facciamo un giro rispetto alle prospettive. Parto da quello che ci diceva Barry Bar nella fine dell'intervista, gli facciamo la battuta, diciamo ma questo movimento contro la riforma delle pensioni può divenire un movimento trasnazionale? Lui ci ha detto, secondo me l'unico movimento che diviene trasnazionale è quello climatico, perché ha la capacità di mettere insieme e di parlare tanti linguaggi. Questo per dire, così do degli accenni, certo che però è interessantissimo nella questione delle prospettive guardare un aspetto. Settimana prossima probabilmente tra poco in Spagna avremo un governo di destra, in Olanda su una prospettiva diametralmente anti-ecologista, abbiamo un'esplosione anche qui a destra. Dal fronte populista la narrazione che viene fatta è quella che bisogna smetterla con la questione climatica, bisogna continuare a inquinare, perché tutti coloro che vogliono costruire la migrazione verso un sistema sostenibile, diverso, di decrescita, perché ne parlavamo prima a cena ma noi ne stiamo discutendo ormai da anni, di fronte a quello che sta succedendo dobbiamo affermare anche questo, abbiamo un problema anche di prospettive. Prima Ramon ci diceva sì, però abbiamo perso, però abbiamo un'unità, un bene prezioso, per cui a Ramon chiederei proprio in cinque minuti di dirci quest'unità dove può portare, faccio la carellata e poi passo il microfono senza ripetermi. A Francesco chiederei anche lui, sempre con un affresco molto veloce, Parigi 8 è stata, ed è tuttora un punto interessante di snodo universitario tra Bagnier e Parigini, anche qui il dibattito teorico si può trasformare magari anche dopo questa fase di riflessione su cui tu accennavi in una fase nuova di rapporto tra le periferie e le città. A te ovviamente Letizia la questione degli Olimpiadi non può che essere vissuta come dinamica internazionale, anche in collegamento a quello che stiamo facendo in Italia, per cui qual è la prospettiva di costruzione anche di un quadro più allargato rispetto a questo e ovviamente le prospettive dell'autunno e del nuovo anno che abbiamo il compito a partire dal Climate Camp di settembre che intreccia tanti di questi nodi, guardo Sergio, di aprire quello che si diceva prima, c'è un momento di convergenza sapendo che come ci dice Ramon da sole si perde, ma non abbiamo il feticcio della bandierina dell'unità ma quella della costruzione di un linguaggio comune. L'obiettivo è un altro, quello di passare verso una visione privata, una privatizzazione del sistema pensionistico. In realtà è la stessa modalità che troviamo anche all'interno del sistema della salute, nel sistema dell'educazione, quello che si sta strutturando appunto è la volontà che le nostre cotizzazioni, quindi i nostri soldi, vadano in realtà verso dei fondi, dei fondi pensione, dei fondi privati. Se poi alla fine questi soldi che noi cotizziamo e che mettiamo nei fondi pensioni andassero nel bene collettivo, non sarebbe alla fine così male. Ma non, i benefici, l'argento che noi vogliono, l'argento che noi vogliono, non va verso il bene comune, va verso dei beni particolari che detruiscono le planete, che detruiscono la nostra salute, che detruiscono le nostre condizioni di lavoro, che organizzano le guerre. In realtà i benefici delle nostre cotizzazioni non vanno nel bene comune ma in benefici. dei beni privati, che sono quelli che distruggono il pianeta, che distruggono le nostre condizioni di salute, ma con i soldi che ci rubano stiamo pagando in realtà il nostro stesso veleno, ciò che ci avvelena. Ed è questo che mi mette veramente in collera, mi fa veramente arrabbiare. di ciò che i nostri nonni, i nostri genitori hanno costruito verrà utilizzato per uccidere i nostri figli. Quindi quello che penso sia il futuro anche di questa lotta è proprio incentrata verso la difesa di questo bene collettivo, di difendere i servizi collettivi e infine di difendere il pianeta. Grazie. Pariguit, l'università di Parigi 8 che è collocata a Saint-Denis, che è anche una delle zone che fa parte del dipartimento 83, tra i più attraversati da queste rivolte alle e che sarà anche il territorio nel quale si faranno i giochi olimpici, quindi un condensato di contraddizioni che rientrano all'interno della riorganizzazione di quello che si chiama il Gran Paris e quindi la riorganizzazione in termini urbanistici, in termini dei servizi, della rete dei trasporti, dei livelli di rendita immobiliare urbana. Considerate che all'interno per esempio dei CRUS, che sono le case dello studente, è arrivata già una comunicazione che annuncia che a partire da, credo, il mese di giugno, gli studenti dovranno lasciare le case dello studente perché dovranno far spazio agli atleti o allo staff degli atleti che parteciperanno ai giochi olimpici. Quindi su questo io non posso che porre delle questioni anche perché qui in Francia il dibattito adesso è molto aperto sulle prospettive, non è che ci sono già delle linee definite per quanto condivida la postura e lo spirito del compagno di sud, così come anche dell'intervento di Sergio, perché poi è vero che in Italia si vive una situazione estremamente dura, soprattutto dal punto di vista di una carenza o fragilità delle lotte, ma anche qui in Francia la situazione non è che sia così leggera, per tutte le ragioni che ci dicevamo prima e non è che la Francia sia esente da una pesante riorganizzazione dell'estrema destra che ha provato proprio a sfruttare questa fase per ripartire all'attacco. Però credo che ci siano delle prospettive che riguardano sia il movimento francese ma più in generale degli assi, delle tematiche sulla base dei quali pensare anche delle relazioni che diciamo sono trasnazionali. Quindi in primo luogo a me interessa capire il prossimo anno quale sarà per esempio il posizionamento dei sindacati e più in generale dell'intersindacale in termini di strategia. Per esempio da un lato c'è la questione del rilancio dell'azione sindacale, al di là delle lotte importantissime che si danno a livello locale, stratti di servizi pubblici oppure di fabbriche oppure di scuole e università. Però qual è il prossimo anno? Questo secondo me è un aspetto importante su cui bisognerà tornare anche nei prossimi mesi. Quali sono gli elementi di rilancio? Io sono d'accordo che non si può rimanere schiacciati solo sulla questione dei 62 o 64 anni. Poi precisando che in realtà come lo ha pure sempre balibarne l'intervista non è che qui si va adesso in pensione a 64 precisi così come prima non è che si andava a 62 nel senso che poi per raggiungere una pensione con il tasso completo quindi per avere una pensione più elevata già adesso la tendenza anche qui è andare in pensione a 66-67 non è che tutti vanno in pensione. Prima andavamo in 62 adesso a 64. Però più in generale penso che bisogna interrogarsi su quali sono i terreni di lotta su cui l'azione sindacale e eventualmente dell'intersindacale si darà. In particolare il tema dei salari oppure estendere alla questione del potere d'acquisto che era uno dei temi che aveva permesso la circolazione, la socializzazione delle rivendicazioni nel caso dei gilets jaunes oppure proprio rispetto a quello che si diceva poc'anzi difendere i servizi pubblici ma ripensare nello stesso tempo l'istituzione della security social come un'istituzione del comune e quindi ripensare completamente il meccanismo della security social, cominciare nella lotta di difesa di un servizio pubblico specifico a pensare quali sono gli spazi per introdurre un discorso che va nel senso delle origini della security social riadattandole al contesto attuale. Francesco tu dicevi prima che una delle questioni che le pensioni, la lotta per la difesa delle pensioni a posto era quella del rapporto tra tempo di lavoro e tempo di vita e quindi anche una critica al modello produttivista che era un po' il discorso ideologico che giustificava la riforma. Questo elemento probabilmente è uno degli elementi che ha permesso già adesso una maggiore apertura verso per esempio le tematiche ecologiche, a me sembra fondamentale che negli ultimi appuntamenti su Levmond de la Terre ci fosse anche il sindacato di Sud e tutto questo insieme di questioni dovrebbero a mio avviso provare ad essere ripensate in degli spazi pubblici di discussione che probabilmente nella fase della riforma delle pensioni sono mancati nel senso che c'erano gli spazi giustamente dell'intersindacale, poi c'erano gli spazi invece in cui i partiti della sinistra discutevano e agivano e poi c'erano gli spazi autonomi dei movimenti, in particolare la risposta alla prima minaccia di soluzione di su Levmond de la Terre che ha prodotto una risposta assolutamente a mio avviso importante e che è anche sorpreso per la sua estensione. Quindi questo insieme di tematiche a mio avviso potrebbero essere degli elementi di riapertura della stagione politica, di dibattito pubblico allargato, prendendo l'esempio della risposta che la dissoluzione di su Levmond de la Terre ha prodotto con 250 comitati che si sono costituiti a livello territoriale, una serie di riprese, una tribune, cioè un appello che ha raccolto non so quante migliaia di firme, dei libri che sono usciti nei quali dei 50 intellettuali e non solo si schierano a favore, dicono siamo tutti su Levmond de la Terre, provando anche a tessere degli elementi programmatici di connessione tra la piattaforma rivendicativa del movimento contro le pensioni e invece le tematiche dei su Levmond de la Terre e su questo probabilmente l'altro grande tema di cui adesso ancora più di prima non si potrà non parlare è capire in che termini si costruiscono delle campagne attorno alla tematica della violenza della polizia. Su questo ci sono anche delle proposte concrete, per esempio una delle prime cose che sono state sollevate anche nel corso della Marche Blanche che si è svolta dopo l'uccisione di Naël e era l'abrogazione di questo articolo della legge di Cazeneuve che risale all'ultima fase del governo Hollande nel quale sostanzialmente si autorizza, cioè si rende più facile l'uso delle armi da fuoco nei confronti dei rifiuti tempere, cioè dei posti di blocco nei quali si esprime un rifiuto di essere controllati, tenendo presente che questo elemento del rifiuto dell'essere controllati si inserisce all'interno di un dispositivo nel quale i controlli si fanno su base razzializzata e territorializzata soprattutto nei quartier populaires, quindi non è una cosa diciamo così, è un rifiuto che esprime un elemento politico. Quindi questa era la prima questione, la seconda è quella per esempio della soppressione dell'IGPN che è la commissione che dovrebbe controllare i comportamenti della polizia, che è una commissione interna che per esempio nel caso dei gilets jaunes ha assolto tutti i poliziotti che hanno tirato con dei proiettili di gomma creando delle gravi ferite, delle mutilazioni sui manifestanti. Quindi c'è un insieme di tematiche che anche riguardano la violence polissiera e che per esempio potrebbero arrivare fino ad un dibattito più ampio che coinvolge anche alcune forze politiche. Oggi è uscito un rapporto della Lega dei diritti dell'uomo pubblicato su Le Mondo che mostra la strategia precisa e strutturata di uso della violenza a San Solin con un rapporto molto dettagliato nel quale viene completamente rovesciata la descrizione che ne ha fatto il Ministero degli Interni. Quindi io credo che non si tratti pure nel caso delle violenze polissiere di una classica lotta contro la repressione, ma molto più che questo, nel senso che chiaramente si tratta di una lotta contro la repressione della polizia, ma bisogna arrivare più in profondità, cioè rimettere in discussione questi elementi strutturali di carattere razzista, sestista, autoritario che definiscono l'istituzione poliziesca all'interno di una riconfigurazione storica della forma Stato neoliberale e riaprire quindi a partire da questo tipo di piano di discorso e di azione un dibattito su quali sono le nuove istituzioni democratiche. Cioè è questa capacità anche istituzionale che le lotte stanno esprimendo di fronte alla riorganizzazione dell'estrema destra è assolutamente fondamentale. Poi ci sono anche delle cose proprio chiudo, molto concrete, per esempio cosa si farà l'anno prossimo se molti cortei saranno vietati. Cioè per esempio adesso non credo che lo scenario degli scorsi giorni si normalizzerà, dipenderà tanto da quella che sarà la forza anche delle lotte nel provare a ridefinirlo, però è un dato che è abbastanza importante. Cioè negli ultimi giorni i cortei sono stati vietati. Sabato c'è stato il corteo lanciato dal Comitè Adamant che si doveva svolgere come tutti gli anni nel luogo dove si svolge. Invece si è fatto a Place de la Republique, è stato vietato, poi si è conquistato un pezzo di corteo, si è arrivato fino a Gardelest e a Gardelest poi si è svolto un comizio finale, diciamo degli interventi finali del Comitè Adamant e poi c'è stato anche un arresto molto provocatorio del fratello di Assa Traore che si è anche circolato nei media. Quindi questa tematica non è che sarà adesso una tematica diciamo così provvisoria che dopo l'estate non si porrà, anche perché se è vero tutto quello che diceva Letizia su come si sta pensando anche l'apparato sicuritario sui giochi olimpici probabilmente questo tipo di problematica investe anche per esempio l'intersindacale, cioè serve una convergenza anche dal punto di vista largo delle forze sindacali e politiche per provare a costruire una ripresa delle mobilitazioni nella fase estiva e nella fase immediatamente successiva, quella della Ram 3. Credo però che appunto sul tema vittoria sconfitta non c'è assolutamente un sentimento di sconfitta né di ritirata né di delusione che opprime, ma al contrario io ho l'impressione che la crisi sia così profonda che presto la rivedremo manifestarsi nelle forme più varie. È evidente però che gli spazi di discussione, gli spazi di riflessione, gli spazi di convergenza sono fondamentali e questo tipo di discorso riguarda anche la Francia e non solo l'Italia, per quanto evidentemente qui per una serie di contingenze storiche, politiche, dal punto di vista delle lotte si esprima una capacità molto più avanzata, però credo che il prossimo anno si sarà molto decisivo da un lato per pensare come costruire un movimento attorno a un evento come quello delle Olimpiadi, dei Olimpiadi, perché non è scontato, si può ipotizzare ma non è scontato, quindi questo dipenderà molto dall'intelligenza collettiva che le varie soggettività sapranno anche esprimere, dovranno avere la capacità di esprimere. Grazie.